Ragazzi, buonasera, come state? Io tutto a posto. Allora, non so come vi vedrete perché, non so per quale motivo, però c'è sempre questa ombra che odio, però con la ring light a me i video vengono così, non so perché agli altri youtubers vengono bene, con me l'effetto è un po' questo qua. Ad ogni modo, questa sera ho pensato bene di registrare finalmente questo video Q&A, vi ho lasciato su Instagram il box per le domande almeno un mese abbondante fa, oserei dire, e eccomi qua finalmente. Come potete vedere, parlare nel telefono ormai è diventata moda, assoluta, comunque iniziamo subito a rispondere alle domande. Semplice, easy, come proseguono gli studi? Allora, gli studi proseguono piuttosto bene, devo dire, ogni tanto qualche crisi di ansia, perché la cosa che mi preoccupa maggiormente in questo periodo a scuola è che appunto dobbiamo realizzare un progetto, noi studenti, per chi non lo sa appunto sto studiando assistente, come si dice? Per chi non lo sa appunto sto studiando per diventare assistente sociale, e una delle materie di questo ultimo semestre appunto ci richiede di portare un progetto presso un'organizzazione, ok? Quindi insieme con una mia compagna di classe dobbiamo realizzare questo diamine di progetto, e io all'inizio vi giuro le crisi di panico, ora va un po' meglio, realizzeremo un incontro presso appunto un progetto già esistente in realtà, per rivolto insomma ai genitori single, ovviamente la cosa mi riguarda molto, nel senso ho proposto io questo progetto, però poi abbiamo visto che quello che io avevo ideato già esisteva, e allora abbiamo parlato con queste persone, e abbiamo visto come noi possiamo portare qualcosa in più a questo progetto già esistente, e quindi il mese prossimo appunto ci sarà questo incontro realizzato da me e la mia compagna di classe, però vi giuro che le prime settimane non se ne sapeva nulla, non si sapeva se saremmo riuscite effettivamente a combinare qualcosa o meno, e ovviamente tutto ciò è molto importante ai fini del fatto che io possa effettivamente terminare questo corso, quindi un'ansia incredibile, ma ora va meglio. Per il resto appunto ciò allo stage, che sta andando secondo me abbastanza bene, e in più altre tre materie se non sbaglio, e di quelle avrò gli esami a giugno, quindi vedremo. Fantastici i tuoi video sull'olandese, grazie! Parli anche francese? No. Nel senso, io ho studiato francese alle medie, ma una vita fa veramente, come potrete immaginarvi, e da allora non l'ho mai più praticato, considerate anche che il francese non è proprio così a pelle, non è una lingua delle mie preferite, quindi mettete insieme tutto ciò e capirete bene che il mio livello di francese è piuttosto penoso. Anche se conto di lavorarci in futuro, anche in previsione di un nuovo lavoro, considerando che il francese è la seconda lingua ufficiale qua in Belgio, ritengo che comunque saperlo parlare, non dico perfetto, ma a un livello decente, può far la differenza. Quindi voglio investire nel mio francese in un futuro piuttosto prossimo. Come stai? Sei felice? Gli studi come vanno? Grazie delle tue domande. Allora, riguardo gli studi ho risposto poco fa. Sono felice... A giornate. No, devo dire, di base lo sono, di base lo sono. C'è purtroppo una situazione che a volte mi sfancula le giornate, ok? A volte veramente mi sono resa conto che mi lascio, un po' come dicevo nell'ultimo video, mi lascio condizionare. Probabilmente il fulcro sta in una situazione ben precisa, che a volte mi toglie un po' serenità dalle giornate, ma mi sono resa conto che in questi ultimi giorni non ho pensato a quella situazione lì, e sono stata da Dio, quindi presumo che togliendo quella situazione di merda dalla mia vita io sia, di base, una persona felice. E sicuramente rispetto a un po' di anni fa ne ho fatta di strada, diciamo, e ho migliorato la mia vita sotto diversi aspetti, quindi di base mi ritengo abbastanza felice. Poi questa non è una domanda, ma amo i tuoi video. Grazie, davvero, ti ringrazio di cuore. Trovo che più gente debba amare i miei video come te. Hai visto Sanremo? C'è un festival simile in Belgio? Allora, no, non ho visto Sanremo, infatti sono tipo un'aliena, perché praticamente tutti gli italiani che conosco, quando c'è Sanremo, si sintonizzano. Io non so neanche come si guarda un programma in streaming, per dire, cioè se anche volessi guardarlo non saprei proprio da che parte cominciare, non ho neanche una televisione, sì che per lo streaming non credo serva, ma comunque non guardo Sanremo, non l'ho mai guardato, da che sono in Belgio, devo dire la verità. Infatti sono rimasta molto indietro, cioè con appunto tutti i cantanti emergenti, nuovi italiani. Io dal 2013 a oggi, insomma, praticamente non li conosco. Diciamo quelli più famosi so che esistono grazie ai post che vedo sui social media, ma non mi metto certa ad ascoltare le canzoni di Sanremo, cioè sono tipo in un mondo a parte io, ok? C'è un festival simile in Belgio? Allora, no. Qualche settimana fa stavo parlando con il mio fidanzato, e gli ho raccontato appunto che ho ricevuto questa domanda, in cui una persona mi chiedeva se esiste un festival simile in Belgio, un festival simile a Sanremo, e lui mi fa, sì, il Rockverkter! Da qui potete benissimo capire che ho fallito miseramente nello spiegare che cos'è il festival di Sanremo, perché per chi non lo sapesse, il Rockverkter, che fra l'altro pronuncio sempre male, perché dico sempre Rockbrekter, ma no, è un festival appunto rock, con band famose, proprio anche da decenni, e questo festival dura tipo 5-6 giorni, se non erro, e si svolge ogni anno appunto nel comune belga, Werkter, ma non c'entra un cavolo con la televisione, cioè è proprio un festival che vai lì e ti guardi i concerti, puoi campeggiare lì, cioè proprio un altro mondo rispetto a Sanremo, ok? e il mio fidanzato ha pensato che questo fosse simile a Sanremo. Come ho spiegato bene della musica italiana, veramente, guarda, passiamo oltre. Il momento peggiore è quello migliore della tua vita passato in Belgio. Allora, sai che così su dei piedi non ti so rispondere, cioè è bella sta domanda, ma allo stesso tempo è complicated, considerando che di situazioni, di momenti peggiori ne ho passati diversi, cioè mo' pescarne uno, cioè me ne sono capitate veramente di tutte, ho passato degli anni tremendi, fortunatamente superati. Non so se dirti il momento peggiore, sono indecisa tra quando facevo la lavapiatti ed ero rimasta qua senza alcun tipo di supporto e dipendevo da quel lavoro pur odiandolo e mi stava avvenendo un esaurimento nervoso e fisico e non sapevo come cavarmi da quella situazione, oppure quando mi sono resa conto anni fa che la mia, per così dire, famiglia non avrebbe mai funzionato e con una bambina di soli due anni ho dovuto prendere e mollare tutto e forse questo è stato un momento più difficile. Separarsi è sempre una merda, cioè non è una cosa che fai volentieri anche quando ti tiri fuori da una brutta situazione, comunque è una cosa che richiede tempo prima che si assesti ad ogni modo ed è complicata sotto diversi punti di vista ed è ancora più difficile se non hai famiglia a supportarti. ho sempre pensato se avessi avuto un familiare vicino sarei potuta tranquillamente andare a vivere a casa di quella persona ma non avendo nessuno qua praticamente sono dovuta rimanere nella mia casa anche se il clima era pessimo fino a quando effettivamente non ho trovato un'alternativa per potermi trasferire. Quindi, sì, questi sono stati definitivamente i miei peggiori momenti i miei momenti migliori guarda, io sinceramente penso adesso cioè sto per affacciarmi a un nuovo mondo del lavoro ho una bella relazione una casa un bel rapporto con mia figlia non ho difficoltà economiche like, I'm good, ok? quindi direi ora il momento migliore ma ora arriviamo alla domanda aspettata da tutti maggiori dettagli sulla crush età, nazionalità, a figli innanzitutto cioè chiamarlo crush ancora cioè mi sembra assurdo perché cioè ormai è un anno che stiamo insieme ridendo e scherzando quindi direi che la fase crush è abbonantemente superata con il mio sommo piacere età, guarda a me piacciono i vecchi cioè te lo dico proprio cioè avrò le daddy issues non lo so ragazzi ok? mettetela un po' come volete di certo mio padre non era uno normale manco per il... ma ad ogni modo lui ha 12 anni più di me ok? ma lo ritengo già un improvement lo ritengo già un miglioramento rispetto alla mia relazione precedente in cui stavo con una persona di ben quasi 16 anni più di me e devo dire che nonostante appunto lui non sia più un ragazzino è abbastanza giovanile cioè non nel senso se li porta bene gli anni invece la persona con cui stavo prima cioè si vedeva proprio che era un vecchio cioè a me poi non interessava però nel senso si vedeva chiaramente che avevamo una grossa differenza di età invece colui non si nota un gran che secondo me cioè per dire secondo me c'ho più capelli bianchi io quindi considerando che io ho 33 anni fatevi un po' i conti voi non è che tutte le persone con cui sono state erano più grandi di me ma un buon numero sì abbastanza e anche ci tenevo a precisare che vabbè a me piacciono le persone appunto abbastanza mature ma l'età non è affatto una garanzia di maturità mentale ahimè mi sono scontrata con questa realtà proprio negli ultimi anni ma con lui sono molto contenta perché in linea generale sono io quella che tende di più magari a sclerare, a perdere la pazienza lui è sempre molto zen anche quando io tipo sono super emotiva lui mi fa tranquillizzare, mi fa ragionare mi fa guardare la situazione in maniera più obiettiva cioè veramente non posso proprio lamentarmi su questa cosa Nazionalità è olandese non sono mai stata con una persona olandese prima di ora ma devo dire, non so se lo sapete ma l'accento olandese è abbastanza diverso da quello fiammingo ma per mia fortuna lui non ha un accento olandese molto marcato perché l'accento olandese, quello proprio del nord dell'Olanda io non lo posso sentire quindi mi è andata anche relativamente bene che ha un accento che sopporto benissimo ecco e che non è troppo troppo diverso da quello fiammingo ovviamente parliamo il 90% del tempo in inglese so che sta cosa tecnicamente non andrebbe bene anche perché non è che non so parlare l'olandese però semplicemente non... non lo so, non mi sento tanto a mio agio a parlarlo soprattutto in un contesto non lavorativo quindi il 90% del tempo non parliamo olandese ha figli? Ebbene sì ragazzi quindi anche da questo punto di vista ci siamo trovati abbastanza nel senso lui e i due figli sono abbastanza più grandi della mia lui anche ci sa fare anche con mia figlia a volte mi aiuta e poi insomma quando siamo tutti assieme è molto bello ecco così siamo un po' una famiglia allargata e quindi anche questo mi fa molto piacere sono contenta, sono contenta di tutto ciò e niente ragazzi queste erano le questions come cazzo si pronuncia questa parola in inglese? è una delle parole che faccio fatica a pronunciare se per caso avete altre domande di cose che vorreste sapere lasciatemele pure nei commenti e io vi risponderò penso che sia arrivata l'ora di chiudere questo video e noi ci aggiorniamo molto presto ciao ragazzi